Beh, le retituirò l'anno prossimo. L'organizzazione ne verrà a conoscenza, sicuro. Apri bene le orecchie, Ugo. Hai idea di quanto riscuota l'organizzazione ogni mese? Miliardi. Hai sentito, Testone? Ho detto miliardi! E se l'organizzazione lo dovesse scoprire comunque? Saprò di chi è la colpa. Saprò di chi è la colpa. Spero che questo serva ad esempio a tutti coloro che intendano reggirare questa organizzazione. Signori, non sono soddisfatto di voi. Il gruppo Orsch controlla quasi totalmente il mercato europeo del sesso. E malgrado ciò, il giro d'affari stagna. Che schifo. Quello che voglio sono idee, idee, buone idee. Signore, Gli emiri del Golfo Pertico pagherebbero delle fortune per ragazze molto giovani che sattiassero i loro appetiti. Bisogna trovare le ragazze. Caro padre, le ragazze. Ne abbiamo quante ne vuole. Sì, ma questi signori preferiscono le francesi. Farber, signor Von Harin. Grazie. Grazie. Grazie.